Bella ragazzi, qua è Ghiotto, buongiorno a tutti, oggi super video, quindi vi invito a mettervi comodi, mettere subito un like, iscrivervi al canale perché oggi sì andremo a valutare l'operato di Tare soprattutto negli ultimi tre anni perché la Lazio di oggi è frutto del lavoro, del mancato magari lavoro del nostro DS. Ma prima ragazzi, perché poi è un video veramente ricchissimo di dati e notizie, vi faccio vedere questa maglia, ovviamente mi è arrivata da 6 calcio, maglia della Fiorentina, avete visto benissimo, una maglia potrei dire retro, anzi è proprio una maglia retro, ragazzi togliamo tutto, proprio appena aperta e facciamo anche un piccolo quiz, ditemi di che anno è. Bene, vediamo chi lo sa, non è assolutamente facile, sono passati un bel po' di anni, a me comunque mi affascinano molto queste maglie retro, tra l'altro maniche lunghe, quindi magari ecco per andare a giocare anche d'inverno, io magari a volte me le metto anche per giocare a padel, guardate qua, fila, stile polo, ragazzi veramente secondo me bella, molto affascinante, un bel viola acceso, quindi mi raccomando 6 calcio, c'è anche una nuova offerta, quindi trovate in tutto in descrizione, e soprattutto potete usufruire, fila, guardate, del mio codice sconto 99, avete il 10% di sconto. Addentriamoci nel discorso Illi-Tare. Allora, il mio pensiero sul DS albanese è il seguente, Tare non è assolutamente uno stupido, è uno che sa fare il suo lavoro, perché gli acquisti, per esempio, di Immobile a 9 milioni, la scoperta di Milinko Vissavic, la scoperta di Felipe Anderson e potrei andare avanti per un'ora, veramente, non sono assolutamente da scordare, da dimenticare, non sono colpi scontanti. Però, secondo me, da tre anni o ha smesso di fare il suo lavoro, perché si è iniziato a occupare, ad esempio, della primavera, e infatti la primavera della Lazio, il settore giovanile in generale, è un disastro, Adesso speriamo che col lavoro di Bianchessi ci possiamo risollevare, perché quello è un grande problema da non sottovalutare, proprio della nostra squadra, che da anni non ci sono giovani che arrivano in prima squadra a giocare. Poi, non tutti possono essere forti, però proprio sono anni che non ci sono giovani nei settori giovanile della Lazio, bravi e soprattutto anche italiani. Ci siamo riempiti di stranieri che, evidentemente, però, non sono all'altezza. O, invece, il suo lavoro lo sta facendo male, perché io ho fatto una bella tabella qua degli acquisti e delle cessioni dall'estate 2019 ad oggi, ed è un bagno di sangue. Iniziamo dagli acquisti e le cessioni, appunto, dell'estate 2019, dove la Lazio con Inzaghi, secondo me, ha raggiunto l'apice, perché quell'anno lì eravamo addirittura fino a febbraio-marzo in lotta per lo scudetto, poi è arrivato il covid, alla fine siamo arrivati quarti, però, in effetti, abbiamo raggiunto il massimo, perché la Champions mancava da dieci anni circa, io da quanti folazzi alla Champions ho visto una volta solo, quindi abbiamo fatto il massimo, ok? Il problema è che già da quell'estate lì non siamo riusciti a programmare il futuro, e adesso andremo a vedere nello specifico il perché. Allora, nell'estate 2019, gli acquisti del DS Tare sono stati seguenti. Allora, Denis Vavro, pagato circa dal Copenhagen, 10 milioni e mezzo, Lazzari, pagato 13,7 milioni, più bonus, più il cartellino di Alessandro Murgia, che è stato, tra l'altro, uno ancora dei pochi giovani cresciuti nel settore giovanile, che è vero che poi non si sono rivelati all'altezza, però almeno hanno giocato un pochettino, adesso non c'è neanche più un Murgia, ok? Quindi circa 18 milioni, il cartellino di Lazzari, che rimane uno degli acquisti più costosi nell'era Lottite. Poi Johnny, che qua non ho cifre ufficiali, ma dovrebbe essere stato pagato circa 2 milioni, e poi è arrivata De Canie a zero, appunto, dal Liverpool. Quindi, di questi quattro giocatori, praticamente solo uno, e ancora adesso non alla Lazio e ha inciso, è Manuel Lazzari. Anche se, se andiamo a vedere, non ha reso per i 18 milioni spese, addirittura adesso era stato messo in discussione da Sarri. Però diciamo che Lazzari è stato un acquisto azzeccato, quindi diamo a dare quel che è di tale. Per il resto, Vavro, 10 milioni e mezzo, e ogni anno lo diamo in prestito, quindi un acquisto no sense. Johnny, vabbè, l'avevi pagato poco, non ha reso, però ok. E a De Canie, invece, un bidone, sì, l'hai preso a zero, ma è stato un acquisto casuale. Era a zero, l'hai preso, era un'occasione, ma non è stato un acquisto, secondo me, ben ponderato. Per quanto riguarda le cessioni, perché un altro grande problema è che noi non riusciamo a cedere da anni, sono state le seguenti. Allora, Wallace, Murgia, alla spalla, eccetera, Badel in prestito, Pedro Neto e Bruno Giordao. Allora, lasciando perdere gli ultimi due, che sono state operazioni, che hai ricavato dei soldi, ma lì è stata un'operazione monetaria, perché tu li hai presi, li avevi pagati tanto, Pedro Neto e Bruno Giordao non li hai mai fatti giocare, li hai venduti a di più. Quindi, lì, non so che casino hanno fatto, sono iniziate anche queste operazioni strane di tare, perché, ad esempio, Pedro Neto era un giocatore non fortissimo, però discreto. Per il resto, hai iniziato a mandare in prestito giocatori come Wallace, Murgia, Badel fuori dal progetto, ma non sei mai riuscito a monetizzare. Quindi, un grosso problema di tare che non sa vendere. Ok, adesso andremo a vedere anche il perché. Quella stagione lì, come detto, abbiamo raggiunto l'apice. A gennaio, mi pare che non facciamo nessun acquisto, c'era la possibilità di prendere Giroud. Io mi incazzai all'epoca. Tanti mi davano contro, eh, ma cosa ti lamenti? Perché io cerco sempre di guardare oltre. Perché una società lungimirante, o un tifoso lungimirante, deve guardare oltre. Non deve guardare solo al domani. Perché nel calcio devi sempre guardare, sì, il presente, ma soprattutto il futuro. Un'industria, qualsiasi azienda, non deve gioire solo del presente, se va bene, ma deve sempre iniziare a programmare il futuro, con anticipo, perché se no ci ritroviamo, come oggi, con le pezze al culo. Ma va bene. Allora, quell'anno lì ha raggiunto l'apice. Cosa è successo? Che quella squadra lì è arrivata poi nella stagione 19-20, dove tu giocavi la Champions per la prima volta, è arrivata stanca, un po' logora, un po' vecchia, con giocatori magari appagati. Non avevamo giovani, appunto, dal settore giovanile per ravvivare un po' la rosa, e quindi hai comprato tanti giocatori. Adesso andremo a vedere sette giocatori, ma io vi posso già spoilerare che nessuno di questi è ancora nella Lazio, ha inciso. Ah, vabbè, a parte Reina. Allora, partiamo proprio da Reina, acquistato come, diciamo, parametro zero, come secondo portiere, poi si è trovato a giocare titolare per varie vicissitudini, però non ha dato nulla di stradire alla Lazio, era comunque un acquisto di secondo piano. Poi, avevi bisogno di un difensore? Hai preso Wesley Hutt, quindi una minessa riscaldata in prestito, ed è stato un disastro, ma non per colpe sue, è stato un acquisto proprio sbagliato, pensato male. Acqua Pro, Escalante, Fares, perché dopo l'Ulici noi abbiamo provato a prendere Gioni, Dormisi, Fares, ma anche lì il terzino sinistro buona, ancora lo stiamo cercando. Andreas Pereira, che forse era l'unico buono, ma in Zalchi non l'ha mai fatto giocare, e poi Dulcis in fundo Vedat Morici. Quindi tu hai speso una totalità di 28 milioni di euro, e le uscite sono state solo per 8 milioni. Quindi hai iniziato ad andare in negativo, in passivo, perché hai iniziato a spendere 28 milioni, e come vi ho detto di questi 7 giocatori, solo Reina è ancora nella rosa della Lazio, e tra l'altro di questi 7 nessuno ha mai giocato titolare, a parte appunto Reina, ed è quello che forse non doveva giocare titolare. Hai venduto per 8 milioni, hai ceduto Guerrieri, Lukaku, Wallace, Andre Anderson, Bandel, Johnny, Adecagni, ma quasi tutti in prestito. Quindi hai cominciato a mandare in prestito i giocatori, ma non hai ricavato nulla, e poi questi giocatori te li sei ritrovati di nuovo in rosa, o magari adesso vanno in scadenza, come Lukaku, che l'hai girato alla Vicenza, ma va in scadenza a giugno, quindi sì, non pagherai più lo stipendio, ma non ci hai assolutamente ricavato nulla, gli hai pagato lo stipendio in questi anni, e basta. A gennaio acquistammo Musacchio, anche lì c'era bisogno di un difensore, visto i problemi fisici di Luis Felipe, hai preso un giocatore non pronto fisicamente, non adatto alla difesa 3, che non giocava da mesi, e anche lì fu un acquisto fallimentare, ma ribadisco, non per colpa di Musacchio. Quindi vedete già queste due sessioni di mercato di Tare, a parte l'acquisto di Lazzari, che però l'hai pagato e non te l'hanno regalato, sono state disastrose. Arriviamo all'estate 2021, quindi è arrivato Sarri, io speravo in un nuovo progetto, per quello che ho detto, cazzo, arriva Sarri, comunque è un grande allenatore, in rampa di lancio, nonostante poi l'età avanzata, ma un allenatore, diciamo, giovane, che è arrivato al grande calcio un po' tardi, ha fatto benissimo ad Empoli, a Napoli, la carriera di Sarri, lo sapete, ho detto, se arriva questo allenatore, vuol dire che la società vuole intraprendere un cambio di rotta, dare una svolta, finalmente, al mercato, a questa squadra, perché poi Sarri vuole di giocatori specifici, non è un'azienda lista, e invece, evidentemente, non è stato così, perché gli acquisti di questi stati, quali sono stati? Vabbè, Kamenovic, che poi abbiamo tesserato adesso, ma sappiamo che è un'operazione, fatta adattare per tenersi buono Kedsman, quindi non è un'operazione tecnico-tattica, e già fa ridere così. Poi, Isai, pedellissimo di Sarri, preso a zero, perché era un'occasione, Basic, Felipe Anderson, Zacani e Pedro, spese totali 22 milioni e mezzo, le cessioni sono state, Musacchio, Lulic a zero, Faresi in prestito, Correa, l'unica grande cessione, non puoi neanche dire hai fatto una grande cessione, perché Correa li vale quei soldi lì, 5 milioni subito, più 25 di obbligo, che adesso ci arriveranno poi nel prossimo esercizio. A gennaio, sappiamo, abbiamo tesserato Kamenovic, abbiamo preso Cabral, diciamo che il mercato di quest'estate non è stato disastroso, nel senso che, vabbè, Isai gioca titolare, anche se con rendimenti insufficienti, Basic, secondo me, non è male, ancora lo stiamo vedendo poco. Anderson, Zacani e Pedro, soprattutto quest'ultimo, hanno fatto loro tutto sommato, Anderson sta deludendo, però come acquisto aveva un senso, perché lo pagavi poco, Sarri lo voleva, era un giocatore adatto al modulo, bisogna in questo caso dare le colpe anche al giocatore, perché se Anderson ancora soffre le pressioni, ha paura dei fischi, non è colpa di Tare, è colpa del giocatore, però comunque non è stato un mercato sufficiente, perché tu avevi bisogno, secondo me, ad esempio, di un portiere, di un difensore, di un terzino mancino, magari di un regista basso al posto di Leiva, sì è vero che c'è Cataldi, avevi bisogno di un vice immobile, non li hai presi, ti sei riempito di esterni, che sì, ci servono, ok, hai preso Basic, che ancora, però nel, diciamo, nel centrocampo laziale, ancora non si è inserito, Isai, comunque una delusione, quindi un mercato, che si è rivelato evidentemente insufficiente, non è abbastanza, a gennaio non hai riparato, perché Cabral l'hai depositato a 20 secondi dalla fine, quindi questa è la fotografia lampante, proprio dell'improvvisazione della società, e Kamenovic, già ve ne ho parlato, tra l'altro, andando a vedere un po' i giocatori in scadenza, siamo arrivati tardi a fare i rinnovi, perché Reina in scadenza, e mi auguro vada via, Stracoscia in scadenza, quindi anche lì l'hai perso a zero, potevi fare una bella plus valenza, disastro, perché non l'hai fatto giocare, gli hai preferito un quarantena, adesso lo perdi, e ti ritroverai a cercare un portiere, anche qua non sarà facile, perché poi il ruolo del portiere è un ruolo fondamentale, non puoi prendere uno così a caso, Radu, che anche lì spero vada via, perché siamo la squadra più vecchia d'Europa, basta, e Marosic, che è l'unico che dovrebbe rinnovare, Luis Felipe anche dovrebbe rinnovare, ma ancora non è nero su bianco, ci sono tante squadre, sia in Serie A, attenzione all'Inter, in Liga, al Betis, il Siviglia, che comunque sono sul giocatore brasiliano, Sarri lo vuole, e bisogna rinnovarlo, è l'unico giocatore un po' giovane, bravo che abbiamo, se perdiamo anche Luis Felipe, ragazzi, veramente pariamoci, poi Patrick, che penso che vada via, non mi strappo i capelli, e poi Leiva, dicono che ormai ha già tirato i remi in barca, giocatore ormai, diciamo, finito ad alti livelli, tornerà a giocare in Brasile, ma ci sta, quindi la situazione del presente, del futuro della Lazio, signori, è critica, quindi io dico, Tare non è uno stupido come valore assoluto, è capace a fare il DS se vuole, ma evidentemente, a me pare che lo tito e Tare fanno più i loro interessi, che gli interessi della Lazio, presente e futuro, io li vedo sempre più neri, ragazzi, ma è già un po' che ve lo racconto, perché io ho un paio d'anni che vi dico, qua non stiamo programmando il futuro, perché la cosa che più mi preoccupa, è proprio la questione giovani, siamo la squadra più vecchia di Europa, e non c'è l'ombra di un giovane, adesso quest'anno è vero, scusatemi, c'è More e Romero, però è troppo poco, io vedo che anche le piccole squadre, programmano, acquistano giovani, o magari dal bivaio crescono, basta guardare ad esempio il Sassuolo, e anche la Juventus sta cambiando modo di lavorare, con i giovani eccetera, e noi siamo fermi al palo, quindi ragazzi, c'è bisogno di una svolta, veramente, io penso che quest'estate, bisognerà mettersi intorno a un tavolo, e dire, si vuole proseguire con Sarri, ok, ma si fa in maniera seria, quindi si programma, e si comprono giocatori adatti a lui, perché se non si fa mercato per Sarri, questo allenatore, ci porterà alla distruzione, perché non è uno che si adatta, non è uno che dice, andiamo male, allora torniamo a giocare in contropiede, no, lui va avanti per la sua strada, e questa strada, state vedendo, che ci sta portando, all'ottavo, nono, decimo posto, che non è assolutamente ammissibile, comunque, adesso pensiamo, a giocare sabato, noi comunque da tifosi, dobbiamo tifare, dobbiamo supportare, però, io lancio l'allarme, il futuro della Lazio, ragazzi, non so se è più in buone mani, signori, tanti like al video, vi ricordo, sei calcio, mi raccomando, passate maglie anche retro, maglie 2021-2022, tutto quello che volete, signori, io vi saluto, vi ringrazio, è sempre forza, Lazio.